Arriva a merito di Porto Salvo un nuovo Hard Discount, il spaccio alimentare si rinnova nei locali, nei prodotti, nei servizi e alla clientela all'insegna di un nuovo Hard Discount, via degli Etruschi 2 a merito di Porto Salvo. Una spesa conveniente, di qualità ma sempre più responsabile grazie ad un'assoluta innovazione, un'ampia varietà di articoli caratterizzati da freschezza, qualità e conveniente. Punto di forza come sempre è la varietà merceologica con il reparto macelleria e salumeria, ma anche il reparto ortofrutta per una spesa sempre più conveniente. Ovviamente al primo posto resta sempre l'attenzione nei confronti dei nostri clienti, ai quali abbiamo riservato servizi e un'offerta merceologica di maggiore qualità. Il nuovo punto vendita Hard Discount si trova in via degli Etruschi 2 a merito di Porto Salvo, una struttura completamente rinnovata, accogliente, con spazi più ampi, luminosi e di facile individuazione grazie alla chiara segnaletica, in una spesa comoda, pratica e anche veloce. Al discount, massima resa, minima spesa.